Il primo incontro, credo l'importante per il famoso trafondo di Sant'Augusta, incontro con l'ANAS di Giaclisco, i rappresentanti della ditta che ha vinto l'apparto e naturalmente per Augusto fare un incontro con tutti, anche per Petronosso e naturalmente su questa importante opera che la città aspetta da 50, 60, 30 metri a voi. Per 1936. E quindi come ben sapete Vitero Rentre è attraversato da una statale, la statale 51, statale 51 che di fatto attraversa la valle, l'impeccatura, se la valle, ci sono due strade, una strada fatta dai Romani, una strada fatta da Francesco Giuseppe, ma comunque è concepita e pensata quando il mezzo di trasporto più importante era il cavallo. Quindi questo progetto va naturalmente a inserirsi in una nuova viabilità, soprattutto un'opera strategica per lo sviluppo dell'opera stessa, anche perché se la valle va preservata per la sua importanza storica, per i suoi parati che vanno dal 1300-1400 e quant'altro, e quindi una volta realizzata l'opera sarà un grande veicolo turistico per il rilancio della città. Dobbiamo dire che su quel tratto di strada passano circa non meno di 10.000 veicoli, allora siamo l'unica, credo sia l'unica statale che passa a questa valle. e quindi la bontà del progetto, certamente è un progetto che va a inseguirsi nel territorio, quindi anche con delle problematiche importanti, soprattutto per chi l'opera la subisce, quindi le proprietà, cui noi dobbiamo sicuramente renderci conto di questo, sicuramente ci sono dei comitati che sicuramente difendono la propria proprietà, però è un'opera strategica e quindi bisognerà trovare con gli stessi delle soluzioni, quanto meno delle attività, perché per rendere meno dura e meno pesante questo passaggio. ci sono opere di viabilità importanti insieme, che in piedi, vale a dire la bretella, che va a inseguirsi sempre in questo progetto, poi il finale della viabilità vitoriese, che purtroppo è stata ferma per tanti e per propri anni. oggi siamo in petto adunque, ma dovremmo ringraziare soprattutto la disponibilità avuta con tutti i verbi Siamas, che hanno ricevuto anche le nostre difficoltà territoriali, ma è un'opera che è, ripeto, strategica per lo sviluppo della città e non solo. Io prendo in mano il lavoro che era già stato iniziato prima, e qua avevano il mio predecessore Giancarlo Sotà, ed è una continuità soprattutto decisionale, che è stata portata avanti dall'amministrazione prima, di dieci anni suoi, e naturalmente io sto portando avanti e a termine, penso, questo è importante, diciamo, è una scelta anche dura, però... scusa Toni, non è che lui stia portando avanti e io che abbia portato avanti, dopo di me ci dovrebbero essere anche tutti gli altri sindaci, che si sono succeduti dal 36 in poi, che tutti hanno sempre cercato e puntato alla realizzazione di questo bronco che mi cava, quindi tutte le amministrazioni precedenti, ci non è un discorso di scelta della città, che si è ereditata e abbiamo continuato a portare avanti tutto là, quindi qua abbiamo potuto tranquillamente evitare che non ci sia così, quindi abbiamo appena, come sottoscritto là su quella parete, a testimonianza che questa scelta era voluta dall'amministrazione. Sì, una scelta voluta, ma la terza abbinazione forse è venuta, forse negli ultimi mandati, insomma, perché poi... il punto è dare un altro indirizzo e poi andare in segretivo, quindi oggi siamo finalmente alla parte finale e mi passerei la parola all'ingegnere Brisco per sentire un po' anche la voce dell'ANIS che è il Stato. Ti la faci sentire, io per tutti i cittadini. Buongiorno a tutti, sono l'ingegnere Brisco, responsabile del procedimento dell'appalto. Intanto ringrazio il Sindaco per la disponibilità data oggi a questo incontro che è la prima volta che ci incontriamo con l'amministrazione e con l'impresa. Due parole veloci. Io ho preso in mano questo lavoro circa tre anni fa e in questi tre anni abbiamo superato molte difficoltà. Abbiamo appaltato il lavoro, abbiamo trovato l'impresa. Davanti a noi ci sono molte altre difficoltà ancora da affrontare, però io sono sicuro che con la determinazione che è stata portata avanti fino a oggi l'opera verrà realizzata, penso anche nei temi di Brisco. Oggi siamo qui con l'impresa appaltatrice che è un'ATI, ATI Eureka Acisa Sokugen, con sede a Milano. Lo stato attuale dell'appalto è questo, in poche parole. Abbiamo fatto l'appalto, è stato aggiudicato, abbiamo consegnato la progettazione esecutiva ed è in corso la progettazione esecutiva. Nella progettazione esecutiva l'impresa ha circa quattro mesi, quindi all'incirca a metà maggio verrà completata la progettazione esecutiva. Poi ci sono circa tre mesi per le approvazioni nostre interne, per le verifiche dal punto di vista tecnico, quindi presumibilmente mi sembro di dire che tra settembre e ottobre potrebbe esserci l'inizio dei lavori. L'appalto è stato aggiudicato con un ribasso di circa un po' meno del 30%, che è in linea con i bassi che attualmente ci sono nel mercato. Quindi noi siamo fiduciosi dal punto di vista sia tecnico che realizzativo che l'opera venga realizzata, come abbiamo detto prima, nei tempi previsti. Basta. Io quello che voglio dire è, Auro, buon lavoro all'impresa e anche dico al sindaco perché ci sarà da lavorare nei prossimi mesi. Passo la parola al rappresentante dell'Auto. Sono Federico Sardi, sono responsabile commerciale del CVP, rappresento in questo caso commercialmente il consorzio stabile Eureica. brevissimamente l'appi aggiudicatario è composta da Eureica all'80%, da CISA, SOF, un genetico di due piccole realtà che si occupano di lavori specialistici. Eureica è un consorzio stabile, è considerato da pochi anni e che con l'intento di affrontare le tematiche dei grandi lavori infrastrutturali, quindi grandi comincienti nazionali e del mercato estero che sta perseguendo da un annetto circa, riunisce tre grandi realtà di imprese che sono il CLF, che è un'attata che si occupa di lavori ferroviari, e in particolare CNB e UNIECO. CNB UNIECO sono due cooperative prese e costruzioni. Lascio la presentazione all'ingegnere Davoli per la parte relativa a CNB e all'ingegnere Cicinelli per la parte relativa a UNIECO. Buongiorno, grazie a tutti, sono Ger Davoli, sono il direttore della divisione centrale di questa società cooperativa e consigliere delegato della stessa. La nostra cooperativa, così come anche UNIECO, sono società nate nei primi anni del 1900, abbiamo festeggiato alcuni anni fa il centenario, è una società che lavora su tutto il territorio nazionale che copre praticamente tutte le specializzazioni, sia a livello di infrastrutturali che a livello di interventi di divizie. In questo caso parliamo del lavoro infrastrutturale, siamo già presenti nel territorio Veneto, già da diversi anni abbiamo realizzato alcune delle opere più importanti su questo territorio, in particolare per quello che riguarda le infrastrutture, l'ultimo tratto dell'Avetto, che collegano negli anni a Pordenone, e invece a livello di lavori ed i e stiamo realizzando per conto di grandi stazioni, la ristrutturazione delle stazioni di Venezia, di Mestre e di Verona. Abbiamo completato in questi giorni il project finance, che è la nostra specializzazione principale, quella dell'iniziativa ospedaliere, l'ospedale dell'Altri Centino, tra i comuni di Piene, Schio e Santorso, lì l'attività sanitaria inizierà proprio, adesso la metà del mese di febbraio, questo è stato un cantiere modello, tre anni che hanno realizzato questa opera, e oggi stesso ci siamo scambiati un po' i compiti con altri miei colleghi, c'è praticamente la partenza della stessa operazione dell'ospedale di Verona, quindi abbiamo questa attività. Con unito, traverso il Consorzio Stabile Oreca, stiamo realizzando alcuni grossi, importanti e complessi lavori infrastrutturali, in particolare in modo ferroviario di Genova, e a breve inizieremo l'intervento, in particolare il ponte di accesso all'Expo a Milano, che è di opere molto complesse, da centinaia di milioni di euro, questa è un'opera relativamente piccola come dimensione rispetto a quelle che citavo prima, ma molto complessa dal punto di vista tecnico, visto che le presenze di questi condotti eme, siamo praticamente in un territorio antropizzato, quindi ci sono delle presenze abbastanza delicate. Io sono la direzione tecnica centrale dell'Infrastruttura Ore 15 a Milano di Mieco, siamo un'impresa multibusiness che opera sul territorio nazionale con circa 700 milioni di euro di fatturato anni, come dicevo un'impresa multibusiness perché si occupa oltre che del mercato, delle costruzioni, si occupa anche di ambiente con la realizzazione di impianti di depurazione, adesso stiamo venendo a un interno valorizzatore, stiamo venendo a un interno valorizzatore insieme a Cnima e i francesi a Torino e abbiamo degli impianti a Scarlino, stiamo venendo anche su Napoli e adesso insieme a come il Consorzio Stabile Oreica il nuovo termo valorizzatore che dovrebbe essere realizzato a Napoli Est. Abbiamo il 60% di partecipazione all'interno di costruzioni e lavori terroviari che fa parte del Consorzio Stabile Oreica insieme all'Istituto, gli olandesi, e nell'ambito economico, realizziamo armamento perroviario sia in Italia che all'estero. Abbiamo anche una divisione fornace a post-dondo e in questo modo copriamo un po' sostanzialmente tutto quello che è una serie di settori importanti che sono collegati al mercato delle costruzioni. con il Consorzio Stabile Oreica, adesso come diceva prima l'Istituto Davoli, siamo su un modo di Genova, un importante intervento, un modo perroviario, ma stiamo guardando anche altre realtà importanti dove cerchiamo di trovare una sinergia anche con i due PCLF sui settori che ci sentiamo di avere un'esperienza nel tempo e siamo particolarmente specializzati nel settore. No, volevo dire che questo ho aggiunto, sì, ho presentato prima che potevamo essere qua tutti quanti i sindaci che hanno iniziato a discutere su questa idea e mi piacerebbe anche andare a vedere tutti quei consiglieri che in vari mandati hanno approvato dei liberi, di incarichi, di impegni, quindi la disponibilità di tutta la città e della maggioranza, penso, di tutta la città, visto che il progetto è arrivato a questo punto. L'unica variante che mi sento di addossarmi come responsabilità è quella che ho inserito come Presidente dell'atto all'epoca mentre facevo il sindaco, c'era un progetto fatto da una grande azienda in cui cercava di trovare la soluzione, di portare la nostra buona acqua che abbiamo a Monte in distribuzione fino sul Trevisiano. Portarla non serve neanche a un problema, ma portarla in una maniera dove c'è un'attenzione anche di risparmio energetico e quindi di una non utilizzo di impianti di risalita, ma utilizzare la pressione stessa che abbiamo a Monte, quindi il nostro bacino era un bacino di pressione che distribuiva l'acqua che abbiamo a tutto il Trevisiano fino ai limiti. Noi sappiamo che a costa, su una strada che percorre costa, abbiamo una condotta da 500 litri al secondo che sta funzionando in eterni, quindi con tutti i rischi che abbiamo avuto anche negli anni dove abbiamo sistemato la strada che bastava soltanto un interno delicato di una rusta per avere un allagamento completo, ben venga allora questo progetto che l'Ato aveva progettato e che si è messo già in contatto con Anas e quindi adesso passeranno le competenze anche ai progettisti dove ci sarà questo inserimento di un tubo, penso da 1500, che è un'opera molto importante che non vado né a sollevarla come un'opera, ma il traffico, la soluzione del traffico era stata condivisa da tutti. L'inserimento ottimale di questo tubo nella galleria si deve fare quindi sicuramente ci saranno dei risparmi dovuti a lavori che potevano essere fatti in maniera separata quindi anche l'unione di queste due cose è estremamente importante. E aggiungo, come in altri casi ho aggiunto che dove un tubo finisce l'acqua non può fermarsi là e quindi da quel tubo che andremo a posare con quest'opera, l'arrivo di quel tubo progetterà la sua continuità per arrivare fino a Nettredigiano quindi ci saranno altre opportunità pianificatorie e di creatività ideale che vedremo in seguito. Per l'importante è intanto posare questo tubo in questo tratto che è più difficile e dopo di qui questo continuerà e segnerà forse una strada che andrà verso valle e sarà molto utile a tutto il discorso di via vita. L'unica, una di passare alla domanda è appunto tutti coloro che hanno collaborato cioè l'ANAS in primis, anzi l'ANAS doveva entrare ancora prima di quando è entrata ma purtroppo le procedure anche sono le difficoltà che noi incontriamo siamo arrivati a questo punto e quindi sono molto contento e felice che ci sia questo problema mi dispiace chiaramente, mi dispiace per quelle persone che vengono toccate anche in maniera da vicino tutti quanti lo siamo toccati in qualche maniera quindi la vita e i progettisti si sperano di fare di meglio per dare massime di garanzie e quant'altro il resto non vedo l'ora di vedere l'operazione in corso e di vederla anche realizzata grazie per quello che fa No, l'unica, prima di passare alla domanda è quello che vorrei, così, intendo che vorrei fare all'impresa è quella di avere una sensibilità per quello che possono essere sia le imprese sia gli uomini che possono essere impiegati sul territorio il territorio sopra come è stata fatta in gran parte del nostro paese di una crisi diciamo molto importante quindi se ci fosse da parte vostra una sensibilità per le imprese che operano nel settore e gli uomini saremmo estremamente grati e questo è un pello che voglio fare da sindaco subito perché insomma ci sia questa sensibilità abbiamo una grave crisi diciamo per quanto riguarda il settore dell'edilizia quindi abbiamo sicuramente delle persone molto qualificate nel settore cerchiamo di collaborare anche su questo, cioè per quanto è possibile questo è l'appello che gli permettono di fare così quanto prima il rapporto, l'appello del signor sindaco, noi abbiamo l'abitudine quando andiamo nei territori di avere un rapporto di collaborazione con gli stessi che sia a più livello con le imprese locali, quindi con i subappaggi, con i produttori perché vi va da sé che è molto probabile che ci ricevano anche delle economicità delle economie di scala, ma anche sotto il profilo della qualità, della sicurezza delle tematiche ambientali abbiamo un'etica che ci porta a comportarci in ogni caso in questo modo, quindi facciamo l'invito, ma siamo abituati anche nei altri territori Pettino, Toscana, Friuli, in termini di cui le istanze abituate, insomma, ma facciamo così Grazie, ci sono domande? Ci sono domande, ci ne avrebbero tante, ma inizio con l'ingegnere Frisco Allora, nell'ultimo comunicato dell'ANAS si parla di 65 milioni di euro per tutta la variante Questo significa che ci sarà anche il secondo straggio e quando potrà esserci e a quali condizioni rispetto alla disponibilità di risorse del governo La seconda è sugli escrofiati, perché c'è ancora in alto questa avvertenza Tar e quant'altro, probabilmente ci si confronterà sul piano dell'aumento degli importi insomma, fino a che punto siete disponibili ad arrivare rispetto per esempio al passante di mestre E la terza e ultima domanda A suo tempo il sindaco aveva auspicato che con la riduzione dell'importo sul primo straccio ci fosse stata la disponibilità da parte dell'ANAS di prendere in considerazione la futura variante di San Giacomo della nuova, come dire, circondazione di San Giacomo se questa disponibilità c'è ancora o meno L'appalto, conferma, è un appalto complessivo di 65 milioni di euro I 65 milioni di euro comprendono l'importo a base dell'appalto e poi si chiamano le somme a disposizione Le somme a disposizione cosa vuol dire? C'è l'IVA, i soldi per eliminare le interferenze, per gli escrofi Quindi l'appalto complessivo è 65 milioni di euro L'appalto vinto dall'impresa e l'ordo era circa 52-53 milioni di euro Su cui l'impresa ha fatto un ribasso Riguardo al secondo straccio, l'appalto in questione riguarda il primo straccio Il secondo straccio, lo sapete tutti, c'è stata la soprintendenza durante la conferenza di servizi per l'intera opera che ha negato la prosecuzione quindi l'appalto in questione è solo relativo al primo straccio Il secondo straccio, allo stato attuale, c'è il no della soprintendenza ancora Riguardo al discorso degli espropriati abbiamo iniziato noi la procedura espropriativa secondo le attuali norme in vigore abbiamo notificato a tutte le imprese le indennità base molte imprese hanno chiesto una rideterminazione e sono in corso adesso, le nuove rideterminazioni verranno comunicate a breve a tutte le ditte che hanno chiesto una rideterminazione Riguardo all'ultima domanda della prosecuzione della bretella con il comune abbiamo già un'interlocuzione col sindaco in particolare riguardo alla prosecuzione e mi pare che adesso ci sia uno studio preliminare e quale seguiranno negli approfondimenti dal punto di vista finanziario però attualmente non c'è una definizione per senso Io mi chiamo Manuel Domenico, sono esplopiando e volevo solo per completezza e verità di informazione appunto sottolineare che ci sono due ricorsi al TAR e che il 16 ci sarà l'udienza e quindi l'iter, voglio dire, deve prevedere naturalmente anche questo solo per completezza e verità, insomma, in modo che la cittadinanza sappia che ci sono due ricorsi in campo da parte degli extracchiati Si confermo che il 16 febbraio c'è l'udienza al TAR di Merico in cui ci sono due ricorsi messi assieme E anche lui potrebbe essere tra di noi perché anche lui prima di noi ha contatto a questo progetto e forse l'ha anche votato, non lo so adesso l'ha votato perché si è estremuto ma comunque è la prosecuzione di tutta questa storia che abbiamo ereditato e non può essere passato in tempo No, no, no Non neanche invitato, sono stato No, ma potrebbe dire che in quanto rappresentante di Escolò Piano Mi rapporto a tutta quella gente che è stata Ah, ho capito No, ho capito Perché questo progetto dalla rotonda di Vindola all'innesto con un'altra rotonda di Elgidio è del tutto diverso dal progetto presentato negli anni in cui io ad esempio ero consigliere con un'arma apriamo e chiudiamo parentesi perché è bene notare e far notare che questo progetto nella parte dell'accordo con la viabilità urbana è del tutto diverso dal vecchio progetto di Zuccolo del 2005 sul quale è stata fatta la conferenza di Zuccolo Sarebbe troppo lungo e per i presenti e quindi diciamo è bene che ci sia precisione e verità anche su queste cose perché la polemica è sempre sale da democrazia ma la precisione rispetto ai riferimenti del passato credo che sia un interesse di tutti e quindi dopo se all'interno sono subentrate tante alternative tipo la sovranternazio tipo altre varianti tipo quante altre cose che venga lo sappiamo che succedono nel tempo se pensassimo ancora come qui non sono differente da poco lo so ma è anche il tempo che passa quindi dopo aver votato si arriva a un'altra votazione e quindi siamo sempre in linea la domanda per il sindaco in carica sabato scorso alcuni espropriati o espropriandi l'hanno accusata in un'ovasione pubblica di aver scritto nell'editoriale la sua firma dell'ultimo numero del periodico comunale che i ricorsi contro il traforo non ricordo il termine esatto non li sono ormai superati per questo è stato accusato di aver scritto l'eufemismo sciocchezze io parlavo dei ricorsi e forse è una mancante di precisazione del ricorso che c'era tra la ditta che aveva vinto e il ricorso al consiglio di stato della ditta che era arrivata seconda io parlavo di quel tipo di ricorsi non parlavo e non entravo assolutamente nel merito degli eliti comunque non sono parte della giustizia sono un semplice sindaco ed è giusto per chi subisse l'opera abbia tutti ha tutti i diritti di fare i propri i propri ricorsi le proprie stanze le proprie osservazioni però su quello che io ho scritto mi riferivo in particolare forse non sono stato preciso nel dire che si trattava e non per questo è un sindaco da mandare a casa e cacci il culo come è stato scritto sul giornale mi sembra un po' scorretta quella vedo che teme che i ricorsi degli spropriati si parlava di settembre e ottobre per l'avvio dei cantieri teme che possano ritardare questa previsione noi siamo fiduciosi che la nostra procedura è stata svolta nel modo corretto quindi noi attualmente siamo in corso la procedazione esecutiva naturalmente poi sarà la giustizia amministrativa a decidere i ricorsi in questione come ha deciso i ricorsi della ditta seconda graduata nello stesso modo deciderà le questioni dal punto di vista amministrativo che sono state avvenzate una domanda per l'insegnere D'Auri appunto lei ha risposto positivamente all'appello del sindaco sull'assunzione di lavoratori locali si può quantificare quanti saranno gli addetti al cantiere quanti potrebbero essere i trevigiani i trevitoriesi coinvolti quanti saranno gli immigrati personalizzati che come attrove avete in assunto il quadro della situazione il mio riferimento era più che diciamo all'assunzione di personale diretto era rivolto ad eventuali subappaggi o dei fondi oggi non credo che siamo in grado di definire esattamente dipende appunto da come si svilupperà il progetto esecutivo e conseguentemente il cronoprogramma è evidente noi abbiamo un personale operaio nostro ma abbiamo un migliaio di persone adesso all'interno dei nostri cantieri nonostante tra la nostra cooperativa la cooperativa unico avremo circa un miliare di dipendenti ma se mettiamo insieme le maestranze che attualmente abbiamo in tutti i nostri cantieri probabilmente arriveremo a 5.000 quindi è questo che vuol dire questo ovviamente nel rispetto delle normative quelle che sono eventuali subappalti o utilizzi di lavoro interinale come abbiamo fatto come stiamo facendo in diverse circostanze nella partispecie al giorno d'oggi probabilmente visto appunto la riduzione di lavoro che c'è in tutto il territorio nazionale quindi non solo qui in Penelton ma anche in Emilia Romagna dove sono le sedi delle nostre società ovviamente i primi ad essere utilizzati sono il personale nostro diretto qui ovviamente si parla anche di specializzazioni perché ci sono delle lavorazioni specialistiche che non sono diciamo possono essere impiegati personale normale ma bisogna dotarsi di personale specializzato per cui l'utilizzo di questo sarà una galleria dove ci sarà scavata con l'esplosivo quindi ci saranno dei minatori ci saranno delle professionalità che specifiche per quest'opera insomma però ripeto l'attenzione ci sarà l'attenzione ci sarà al territorio in tutti i centri ma si è scritto mai da mesi di cento di settanta sindacati che dicono almeno di trenta cinquanta potrebbero essere cioè sono cifre campate in aria o non sono al corrente di queste notizie che saranno il cantiere quanta gente occupera queste cifre forse sono calcolate più in un rapporto che normalmente si valuta in funzione del valore della pauta quindi normalmente ci si esprime in questi termini anche in fase diciamo concentrale di gara quando si fanno le prime ipotesi di valutazione dell'organigramma della commessa della struttura coinvolta si fanno delle valutazioni macroscopiche che riguardano un rapporto in generale quindi è chiaro che è solo nel confezionamento concreto del progetto esecutivo che si può avere la certezza della quantità effettiva del personale da impiegare sia tecnico che più operato naturalmente nel momento in cui si definisce la propria persona esecutiva definiamo anche un programma lavori e al momento dell'avvio dell'attività normalmente procediamo con degli incontri con le forze sindacali per concorrere più in particolare un pochino sull'utilizzo delle risorse umane però saranno diverse decine una seconda e l'ultima domanda scusa allora ieri le opposizioni hanno rilevato che le informazioni loro non sarebbero rispettate nella progettazione esecutiva le ultime norme in materia di SISU non per questo che ovviamente il progetto non preveda la sicurezza però le ultime norme non sono state che cosa la situazione esecutiva iniziata adesso qui c'è il generatrisco che c'è con cui il progetto esecutivo deve essere ancora redatto il progetto esecutivo l'abbiamo consegnato ed è in corso di redazione il progetto esecutivo i quattro mesi che vi ho detto prima sono i quattro mesi che ci servono per redigere il progetto esecutivo perché questo è un appalto così dell'integrato cioè l'appalto integrato viene appaltato all'impresa il progetto definitivo ed è un onere dell'impresa sviluppare il progetto esecutivo quindi l'impresa adesso ha l'onere di sviluppare la progettazione esecutiva come vi ho detto prima e all'interno di questa progettazione esecutiva verranno sviluppati tutti gli aspetti che la normativa attuale prevede insomma si parla spesso del fatto che l'opera potrebbe avere sulla buca di ridola ma non si parla mai di quanta vicinezza potrebbe avere invece nella zona di Bortosega che è una zona di risorgire a un sistema delicato infatti è inserito dall'Unione Europea è un sito di interesse comunitario per cui volevo chiedere se ci sono delle totale previste e in che forma il progetto ha attraversato una serie di anni di approvazioni tra cui anche la valutazione di impatto ambientale naturalmente con il progetto esecutivo verranno tenuti conti tutti gli aspetti autorizzativi già acquisiti e anche eventualmente migliorie dal punto di vista ambientale che si possono portare all'opera insomma quindi a punto di vista concretamente ci sono da fare delle opere in verde aggiuntive barriere forno assorbenti il progetto esecutivo si libera tutti questi dettagli per quanto riguarda la tutela degli ambienti perché lì di fatto il problema adesso non ho tutte le autorizzazioni forse lei le ha meglio di me tutte le autorizzazioni in mente quello che mi ricordo è che il progetto è stato provato dal punto di vista ambientale non mi ricordo tutte le autorizzazioni forse lei le ha meglio di me c'è un ricorso avviato dal comitato in collaborazione con l'ambiente perché sembrerebbe che la progettazione preliminare sia stata avviata prima del riconoscimento da parte dell'Unione Europea del sito di ingresso comunitario del ministro per quanto riguarda questo problema guardi come abbiamo detto prima il 16 febbraio ci sarà dal punto di vista amministrativo la valutazione di tutti gli aspetti quindi la giustizia amministrativa affronterà anche questo ricorso su cui avete voi basato le vostre osservazioni grazie se posso in realtà era una denuncia alla Commissione Europea non un ricorso al TAP ma non viene traggiato al TAP è fatto tutti i giorni la denuncia alla Commissione Europea in Parlamento c'è un minuto di tempo chi vuole denunciare denuncia ma dopo ci sarà anche chi dialoga con la Commissione quindi in un certo momento è come un Consiglio Comunale è un mondo più grande è portato siccome c'è gente esperta a denunciare più che a portare idee e a ragionare su effettivamente quali sono i problemi anche europei delle nazioni c'è chi invece va là eletto dei cittadini a denunciare ma non voglio fare nomi quindi meglio e ci sarà chi difenderà la nazione in campo faccio l'attore di un'ultima domanda i signori tipi di esecuzione dell'opera ho previsto 975 per circa due anni e un'ultima domanda io non ci sono arrivata a dare ai giornalisti viene fornita solo questa documentazione cartacea cioè non so c'è un sito il tracciato per esempio in fotocopia anche a massa cioè ho sentito parlare di capitale sociale di 700 milioni 65 milioni quando di intervento non è che vuole il progetto perché scusate è un reka un foglietto cioè avete un sito online comunque non ho capito mi scusi ho capito la mia obiezione resta la stessa relativamente a ciò che ci avete consegnato il concetto è facciamo o non facciamo questo trasformato tutto là il concetto è che siamo in strada per farlo io lo ritengo un progetto catastrofico sono una giornalista scusate sono una vittorina esprimo chiaramente la mia opinione mi sento di doverla esprimere per non essere connivete insomma con questo progetto c'è il trailer adesso altro? no ok un'unica grazie 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 grazie